buongiorno ce ne andiamo a fare qui ci va fermo è bella tu un mani Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, non lo so. Domenica Un'ora prima Domenica Dio mio ci va a pulire Domenica E' il migliore di pace Cagliare Domenica 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 Cagliare Si Cagliare Ma io ti tra uno si anche e scarti di cavazza ora è il secondo anno e a tu paro che stai a luna come c'è l'uomo ahi stiamo facendo le pene un pelota c'è vola un pelota c'è vola ho fatto una macchina ora non facciamo ora non facciamo se va piano ti fa scorrere stiamo facciamo spartalo allora accelera facciamo venire facciamo venire facciamo venire ora non facciamo venire Cosa c'è il domenio? Cosa c'è il domenio? Non ci vuole, non ci vuole. Ah, ma non ci vuole... Mi chiamate ma deve essere da fai male. No, si, tu, ma... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.